buongiorno e benvenuti nel mio canale circa una settimana fa ho scritto una guida testuale su come usare IFTTT per creare delle relazioni tra social network e servizi web IFTTT funziona attraverso un si imposta un evento e quando accade questo evento allora si crea una azione conseguente cioè se accade questo allora succede anche quest'altro IFTTT questo è una specie di acronimo di IFTTT la guida testuale l'ho anche arricchita con un video che ho pubblicato appunto su questo canale youtube come usare appunto IFTTT in un commento e adesso non lo trovo mi è stato chiesto se si poteva usare questo servizio anche per collegare youtube a twitter vale a dire per ripubblicare su twitter i video che si sono pubblicati su youtube e questa sarà l'oggetto di questo video tutorial vale a dire vedremo come ripubblicare su twitter in maniera automatica i video pubblici che abbiamo pubblicato che abbiamo postato sul nostro canale youtube prima di procedere bisogna assoluto loggarci con youtube siamo io sono loggato su youtube e bisogna loggarci anche su twitter ovviamente lo si può fare anche in seguito ma è meglio farlo subito poi si apre IFTTT su IFTTT si possono al massimo avere tre applet sono le app sono le relazioni che possiamo creare in questo momento questo in questo account di IFTTT ho due applet quindi ne posso creare un'altra naturalmente è chiaro che se uno arriva a te poi crea un altro account e ne fa altre tre poi un altro account ancora ne fa ancora altre tre quindi in realtà questo limite di tre si può bypassare tranquillamente vediamo appunto come creare una relazione per ripubblicare automaticamente i video postati su youtube anche ripubblicare su twitter ovviamente lo possiamo ripubblicare anche che so sulla pagina facebook o magari non lo so da un'altra parte su un blog su tumblr su blog su quello che vogliamo in questo in questo caso vediamo come ripubblicare un video di youtube pubblico però su su twitter andiamo su più create per creare il nostro trigger e qui come vedete c'è le due opzioni il this d'endette si va su add per aggiungere il servizio in questo caso ci vorranno mostrare tutti i servizi e come vedete sono infiniti per cercare quello che ci interessa il trigger cioè la pubblicazione su youtube si digita youtube e si vede subito il canale il servizio youtube ci si clicca sopra e ci verranno presentare tutte le opzioni che noi possiamo usare come trigger new like video cioè un video che ci piace e non ci interessa new public video from subscriptions new super chat message new channel membership new super sticker allora ci interessa questo new public video uploaded by you cioè ciascun video pubblico che è stato caricato da noi si sceglie questo trigger ci si clicca sopra a questo punto bisogna connetterci con youtube si va su connect e se noi siamo già connessi con youtube dovremmo connetterci automaticamente o altrimenti si aprirà una finestra in cui farlo vediamo si apre una finestra si va su consenti e si accede al nostro account youtube a questo punto il trigger è già stato creato e adesso dobbiamo creare il live action andiamo quindi su add qui e come action scegliamo scegliamo twitter per ripubblicare appunto su twitter come vedete è molto semplice chiaro un un applet su i fttt andiamo su twitter allora posta un tweet posta un tweet con immagine update aggiorna il voto del profilo aggiorna la biografia in questo caso noi scegliamo posta un tweet cioè per ogni video pubblicato su youtube pubblicherà il fttt pubblicherà automaticamente un tweet scegliamo questa opzione dobbiamo aggiungere gli ingredienti il titolo ci sta bene il titolo del video l'indirizzo ci sta bene vediamo che altri ingredienti ci sono possiamo metterci la descrizione anche c'è quello che lo che viene mostrato sotto al sotto al player del video volendo ce la possiamo mettere oppure non ce la possiamo mettere possiamo scegliere possiamo scegliere anche il nome dell'autore se vogliamo inserirlo perché come vedete si può fare così si può aggiungere tutti gli ingredienti che si vuole o chiaramente possiamo anche eliminarli in questo modo si clicca esternamente magari si lascia solo il titolo e l'indirizzo a questo punto si va su create action si crea azione quindi si va su continuo per pubblicare per creare per terminare la configurazione della nostra applet si va su continuo qui c'è la video epilogo se viene pubblicato un nuovo video pubblico allora si posta un tweet in quest'account che è il mio si può non solo ricevere notifiche quando l'applet cioè corre quando diciamo che viene pubblicato un tweet oppure si può ricevere una notifica oppure non ricevere la notifica si può scegliere in ogni caso questa opzione si può anche modificare successivamente sia su finish e adesso verrà creata una nuova applet che è connessa come si è già connessa quindi non si va su home e questa è la nuova applet che è stata creata quando noi pubblicheremo un video quando io pubblicherò un video su youtube verrà automaticamente pubblicato un tweet su twitter e adesso vediamo come effettivamente è successa questa situazione ecco questo è il video che ho pubblicato ieri su youtube che è stato ripubblicato automaticamente anche su twitter si può aprire ecco va come vedete è stato ripubblicato tramite i ftttt viene ripubblicata solitamente dopo un'ora magari è un po striminzito perché si vede solo il testo e il video però il video può essere il prodotto direttamente anche da gli utenti di twitter cliccandoci sopra come vedete se lo si può fare soltanto però da desktop in mente da cellulare non credo su si possa fare se si vuole aumentare la descrizione si può aggiungere per esempio la descrizione si va sul my app si ftttt si clicca sul applet che abbiamo creato appunto per ripubblicare i video di youtube si va su settings e negli ingredienti insieme a titolo e indirizzo url si va su add ingredient e si sceglie anche description ecco quindi prima la descrizione poi il titolo magari forse è meglio prima il titolo quindi si copia prima il titolo si incolla gtmlv poi la descrizione e poi l'indirizzo si va su save ecco fatto e quindi dalla prossima volta insieme a titolo e indirizzo del video che potrà anche essere prodotto da dagli utenti di youtube di twitter ci sarà anche sotto al titolo la descrizione che ho inserito sotto il player del video secondo me questa è una cosa interessante per gli youtuber che hanno anche un account twitter che vogliono collegare ai video postati su youtube e questo è tutto alla prossima volta